Il danaro c'è ma non si vede. Qualcuno vince, qualcuno perde. Il danaro di per sé non si fa né si perde, semplicemente si trasferisce da un'intuizione ad un'altra. Se non ci sei dentro, ne sei proprio fuori, ok? Ti devi svegliare, hai capito? O capitano, o niente. Io allora pensai che fosse tutto il danaro del mondo, ora li faccio in un giorno. Non sto parlando di ricchezza, ricchezza sufficiente per non buttare via il tempo. È tutta questione di soldi, ragazzo. Il resto è conversazione.